E là eroici, ultimo round di sopralluoghi per il Romagna Trophy, giornata incantevole, freddo beduino, gli svedesi rispondono col gorex laminato, noi qui rispondiamo con la crema pasticcera. Eccola qua, calda d'inverno, fresca d'estate, Giulio e Loris pronti per partire. Ecco, un po' di sottobosco per arricchire su un po' le gambe, un qualche tratto anche un po' infestato, aspetta, aspetta, hai piccola, portami giù tu, e poi un po' di spalto per avvicinarci a quello che è la parte più interessante di questo nostro giro, i gessi di Romagna, queste formazioni geologiche particolarissime che stanno per essere riconosciute come il patrimonio naturale del mesco. Quindi sbrighiamoci a visitarle perché non so per quanto potranno rimanere percorribili in moto. Eroici! Guardate che spettacolo! i paesaggi dove però il romagna trofi del romagna trofi. bello lì Giulio che ti faccio una foto! Che spettacolo! Questo è un terreno molto particolare, estremamente argilloso, una vera e propria creta. Qui se fosse bagnato non ci tirerebbe fuori dal fango neanche l'elicottero. in alcuni tratti il terreno copre la pista ma voi seguite la traccia. Ecco, c'è anche qualche tratto da guidare con attenzione. Sì, ecco qui, soprattutto perché se uno prende male le misure mi fionda giù di lì, che non è per niente simpatico, vero? Vabbè, dai! Ci aspetta un super weekend! Ci vediamo al Romagna Trophy! Ciao Eroici in Moto! Buona settimana! Ciao Eroici!